Eccoci qui dal mercato coperto di Campagna Amica di Coldiretti in via Farnesiana 17 a Piacenza. C'è una gran bella animazione qui. Ci sono ben 18 espositori. Io dico espositori perché dà proprio l'idea di una fiera. È qualcosa di veramente molto bello. È una fiera del gusto. Io mi avvicino adesso a Simone del Podere Cittadella. Buongiorno Simone. Buongiorno a tutti. Allora vedo che qua ci sono dei latticini, ci sono un sacco di cose buone. Già a me viene fame. Ci vuole spiegare qualcosa della sua azienda? Sì. Allora la nostra azienda si occupa in particolare di prodotti diciamo innovativi. Noi abbiamo puntato tutto sul kefir che è uno yogurt probiotico diciamo. E per cui dal 2006 abbiamo iniziato questa produzione con il latte di produzione proprio a alta qualità. per il kefir e poi lo yogurt che tutti conoscono mentre invece il kefir è un po' meno conosciuto ed ha una comunità di oltre 20 specie di fermenti probiotici vivi e vitali. Allora vedete quanto il cibo si collega alla salute? Quando abbiamo iniziato abbiamo parlato proprio di quanto sia importante per la nostra salute la qualità del cibo e anche come viene prodotto. Quindi quando parliamo adesso di kefir e parliamo quindi poi di fermenti lattici parliamo di qualcosa che fa bene alla nostra salute. Assolutamente sì. Infatti i fermenti lattici hanno, i probiotici hanno un'importanza fondamentale per il benessere dell'intestino. E l'intestino si sta scoprendo, mentre tutti a scuola abbiamo imparato che serve per digerire il cibo, invece in realtà si sta scoprendo sempre di più che ha un sacco di funzioni ulteriori. Tant'è vero che si parla di secondo cervello e ha anche una grande importanza nel sistema immunitario. Per cui la salute dell'uomo complessiva passa dal benessere e dalla salute dell'intestino. Dove si trova la sua azienda? Noi siamo a Villanova sull'Arda che è famosa per essere stata la patria, cioè il luogo dove ha abitato per 50 anni Giuseppe Verdi e per la festa delle ciliegie. Direi che è famosa anche per i latticini, i formaggi, il famoso kefir del podere cittadella. Vedo che ci sono diversi tipi di formaggi. Scusi? Ci sono diversi tipi di formaggi. Sì, noi collaboriamo anche con l'azienda, noi produciamo sia con latte produzione proprio a vaccino, ma facciamo anche il kefir e lo yogurt di Capra, che è più digeribile, ha un sacco di funzioni interessanti. E noi acquistiamo questo, cioè ci viene fornito questo latte dall'azienda agricola Capris di Alseno e per cui noi, oltre a utilizzare il loro latte di Capra per fare i nostri prodotti, proponiamo anche tutta la linea di formaggi che fanno a Alseno. Tutta roba piacentina, munta, prodotta e anche a questo punto venduta a Piacenza. Più chilometri zero di così si muore. Decisamente. Poi pensate il grande vantaggio adesso con il mercato coperto di Campagna Amica di Coldiretti, ve lo trovate qui veramente a portata di mano, cioè quelli che non abitano in Val d'Arda, che non sono così vicini all'azienda, alla fine qui a Piacenza hanno la possibilità al venerdì pomeriggio, il sabato e la domenica mattina di venire qui da Simon Serra. Serra. Bene, grazie, grazie mille, in bocca al lupo per il grande lavoro che svolgete e per come lo svolgete. Grazie a lei, grazie a tutti.